Un obiettivo condiviso. Ah perché non potevo fare una fase più semplice? Io non lo so. Ciao, sono Maria e lavoro in X-Colley da tre anni. Mi occupo di product marketing. Mi contraddistimono il mio essere idealista, creativa e anche molto determinata. Mi stimola a pensare alle strategie migliori per far accadere le idee. La sfida più grande è ottenere che i vari stakeholders coinvolti nei progetti non eseguano solo attività, ma vogliano raggiungere un obiettivo condiviso. Una relazione autentica con i colleghi per me significa avere una connessione genuina basata su trasparenza e sincerità. Mi piace ballare salsa e baciata, bere vino in compagnia, viaggiare e vivere d'arte. Evoluzione Ciao, devo partire. Eh che gli stakeholders... Che sono... Dai... Dai stakeholders... Bene... Bene... Ok. No, 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 no. Dai raga... No, 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 no. Ci vediamo alla prossima. No. No. No.